Anche la consulta regionale dei giovani ha partecipato alla trentesima edizione di Automotore Troll in Gotto di Torino dal 10 al 12 febbraio con uno stand informativo. Nella rassegna dedicata alle automobili e alle motociclette d'epoca, evento immancabile per gli appassionati, la consulta ha presentato la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale. All'incontro di presentazione della manifestazione ha partecipato Alessandro Stefanutti, componente dell'ufficio di presidenza della consulta giovani che ha illustrato l'iniziativa.